Abbiamo qua la CSL Homage, che è un homage alla 3.0 CSL degli anni 70. E con questa macchina vogliamo parlare soprattutto di leggerezza e di sportività. La macchina si chiama CSL, che vuole dire, alla fine L è per Leichtbau, Leichtbau è leggerezza. E la cosa più importante è che la tecnologia della leggerezza vuole dire che è tutto in carbonio, l'esterno, l'interno. E questo combinato con queste proporzioni tipicamente BMW, molto elongata, molto elegante, fa di questa macchina questa combinazione tra sportività, eleganza e la storia della BMW. Questa macchina è un concept, comunque è anche un'ispirazione per noi designer e ci saranno sicuramente qualche elementi che saranno da vedere nel futuro delle BMW.